Statistica e cittadinanza Il principale destinato all'iniziativa è la cosiddetta classe target, ma le azioni prevedono il coinvolgimento dell'intero studio scolastico. È prevista infatti la combinazione di un questionnaire web da parte di tutti gli studenti della scuola sulla percezione di un tema che possa suscitare curiosità e interesse tra i giovani. Il progetto nasce nel 2017 da un'idea dei colleghi della sede del Lazio, che mettono in campo una prima fase pilota con il liceo Talete di Aliccia. Lo scorso anno scolastico è il progetto Vario Gime, con la partecipazione di 13 scuole e con il coordinamento dei colleghi del Lazio, affinché l'iniziativa potesse essere applicata in altri territori. Statistica e cittadinanza, uno dei tanti progetti che l'Istat mette in campo per la promozione della cultura statistica.